Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'oroscopo è seguito da numerosi appassionati che ogni settimana consultano le previsioni del proprio segno, alla ricerca di indizi su amore, lavoro, salute e fortuna. In questa prima settimana di maggio, vediamo quali saranno i segni favoriti dalla fortuna. Le previsioni per la settimana dal 29 aprile al 5 maggio sono ricche di novità. Alcuni segni avranno un'iniezione di fortuna in più, con importanti cambiamenti in arrivo. Venere entra in toro e Marte in ariete, favorendo i segni di terra con dolcezza e amore, mentre quelli di fuoco saranno più focosi. Partendo dal fondo della classifica, i segni meno fortunati sono scorpione, bilancia e cancro. Risalendo troviamo l'acquario, il capricorno e il leone, che attraversano un periodo nervoso. La Vergine, i pesci e i gemelli godranno di tranquillità in amore dopo periodi turbolenti, con una nuova energia per affrontare maggio. Sul podio dei segni fortunati ed energici di maggio ci sono sagittario, ariete e toro, in testa alla classifica. Venere arriva nel toro, portando sorrisi e opportunità per chi è nato sotto questo segno. Quindi, se sei un toro, preparati a vivere un periodo favorevole in amore e fortuna. Consulta l'oroscopo per scoprire cosa ti riserva questa settimana e goditi le novità che maggio ha insieme.